Le ragazze di AGSM Verona ti aspettano il sabato pomeriggio allo stadio di via Sogare per le gare del campionato nazionale di serie A femminile ingresso gratuito, iniziative speciali e omaggi per tutti gli abbonati è la Sverona, la famiglia gialloblu del Verona è sempre più grande Sverona nella mia vita sempre di più sempre di più sempre di più Grazie per la visione!